Pino? Pino? Dove sei finito? Per favore, vieni fuori! A Pino piace il pane! Questo potrebbe essere un indizio! Ehi, quello era il mio indizio! No? Ma se non potessi vederlo mio Pino mai più... Pino, non piangere! Dobbiamo continuare a cercare! Sì! I detective non si arrendono mai! E se non riuscissimo a trovarlo più... Dobbiamo pensare! Qual è la cosa che a Pino piace fare di più? Sicuramente dormire! Ma ci sono molti posti in cui potrebbe essersi addormentato! Oh, hai ragione! Ma a Pino piacciono i postigini più accoglienti!